Casuale, eutanasia, testamento biologico, insomma c'è molta confusione in merito a questi temi e sembra sfuggire un filo comune che leghi tutti questi fatti per poterci anche soltanto riflettere, non le sembra dottor Bianco? Sì, la vicenda Welby ha posto, devo dire, in modo molto coinvolgente, lo dico in modo assolutamente positivo, tutta una serie di questioni. È vero, credo che su alcuni temi ci siano elementi di confusione. Si è parlato di accanimento terapeutico, si è parlato di eutanasia, si è parlato di rifiuto delle terapie, tutto messo insieme e si smarrisce in qualche modo qual è il filo conduttore che non solo tiene insieme queste cose ma che le distingue anche. Da un punto di vista tecnico, tra virgolette, le cose che auspicava Welby per la sua persona, che cosa sono? Come si possono definire? Lo staccare la spina, in realtà, tutti hanno scritto lo staccare la spina, ma in realtà, da un punto di vista giuridico, che cos'è questo staccare la spina? Sospensione delle cure? Beh, avere una risposta chiara su questo avremmo risolto una metà dei problemi, perché in realtà c'è un orientamento giuridico che valuta il cosiddetto distacco della spina come un atto commissivo, se volete, omissivo, che anticipa, per esempio, un evento e anticipare un evento equivale ad averlo commesso. E questo è un orientamento giuridico. Un altro orientamento giuridico dice che il distacco della spina appartiene all'ordine delle disposizioni di volontà che possono prevedere il rifiuto delle terapie e quindi come tale entrare in un ambito di disceità giuridica. Beh, io credo che da questa confusione o da questo doppio piano interpretativo si debba uscire, perché non succeda che il medico, rispetto a decisioni così profondamente coinvolgenti, debba poi decidere se rischiare un reato di violenza privata oppure di omissione di soccorso. Credo che questo non sia giusto. Credo che un definitivo orientamento in materia sia quantomeno doveroso. Ecco, non pensa che nella discussione virulenta, accesa, che è seguita a questa vicenda che è durata praticamente quasi due mesi, abbia pesato di sicuro troppo l'ideologia, però è possibile discutere di problemi di questo tipo tenendo fuori ideologia. Credo che questi temi coinvolgono alcuni principi che si connotano fortemente per una grossa valenza ideologica. Esiste anche, voglio dire, l'ideologia buona, cioè i grandi principi rispetto ai quali non si è disposti a derogare. Gli statuti etici, diciamo così, non derogano. Per esempio il principio della sacralità della vita è un principio rispetto al quale, per esempio, la religione cattolica, le religioni monoteiste e non solo quella cattolica derogano molto poco o con molta oculatezza. Altre visioni etiche del mondo e della vita invece sono disposte a subordinare questo tema, cioè quella della sacralità della vita a quella dell'autodeterminazione. Quindi in realtà siamo effettivamente di fronte a delle impostazioni del tema alquanto differenti e per certi aspetti alquanto discordanti. E abbiamo un problema in più, cioè come queste diverse visioni etiche possano poi e debbano poi convergere in un ordinamento giuridico che diano la possibilità di esprimersi a entrambi. Cioè in buona sostanza non è tanto o non è solo il problema di cosa prevedono i grandi principi etici. Il problema è che cosa debba prevedere l'ordinamento. Ed è questo il punto più delicato, il punto di massima frizione. L'ordinamento giuridico ovviamente. Certo, mi riferisco all'ordinamento giuridico perché nella vicenda Welby c'è qualche cosa, voglio dire, di già scontato. Cerco di spiegarmi. Non esiste ormai un problema oggi sotto il profilo giuridico sul fatto che un paziente possa rifiutare una terapia. Dire e sostenere che il problema del caso Welby sia questo credo sia sbagliato. Ormai voglio dire la storia anche giuridica recente è ricca di casi di pazienti che hanno rifiutato terapie che sicuramente non si potevano definire accanimento terapeutico. Amputare una gamba per una gangrena è difficile definirla accanimento terapeutico. Rifiutare una dialisi è difficile definire la dialisi accanimento terapeutico. Posso dire che per alcuni la stessa ventilazione assistita non è affatto accanimento terapeutico. Altri la chiedono, la vogliono, la desiderano. Ecco, allora il problema non è tanto questo. Ma quando questa sospensione delle terapie comporta di fatto, sic a simpliciter, un atto di terminazione della vita biologica. Ed è questo, per esempio, la sospensione di un trattamento vitale tipo la ventilazione assistita, la stimolazione elettromeccanica, eccetera, indiscutibilmente hanno questo significato e hanno questo senso. E allora il problema, il problema che ci pone la questione Welby è rispetto a questi casi molto particolari di richiesta di sospensione dei trattamenti, che tra l'altro sono molto particolari ma probabilmente diventeranno sempre più frequenti, vuoi per il massiccio uso di queste tecniche di sostegno vitale nelle fasi acute. Tenete presente che studi recentissimi hanno dimostrato che nell'ingresso nelle unità di terapia intensive e le scelte delle procedure di ingresso nelle unità di terapia intensive, solo nell'8% dei casi sono preceduti da una decisione del paziente. Cosa voglio dire? Che in buona sostanza i pazienti si trovano intubati e ventilati per stato di necessità quando fanno questa scelta. Il problema diventa dopo. Che cosa fare dopo? Da un punto di vista di adeguamento normativo, se lei fosse un politico, chiederebbe il parere a un medico o no. Ma a voler essere molto pratici, che cos'è che in questo momento riterrei opportuno facesse l'ordinamento giuridico su questo tema? Primo, ricondesse valore giuridico alle cosiddette volontà anticipate. Questo ovviamente per coprire quelle norme... quello che si chiama testamento biologico. Questo per coprire quell'enorme buco di volontà che oggi registriamo. L'ho detto prima, soltanto l'8% dei pazienti che entra in un'animazione ha modo, per ovvi motivi, di poter esprimere un proprio consenso ad una terapia. Il resto, voglio dire, è una scelta che viene fatta in ragione dell'urgenza e delle caratteristiche dell'ingresso. Allora, come comportarsi dopo? Quali sono le volontà a cui riferirsi? Il nostro codice dice che bisogna tenerne conto, ma il profilo giuridico della questione è ancora incerto. Quindi la prima cosa da fare è che mi aspetto e che venga riconosciuto validità giuridica alle cosiddette direttive anticipate, eventualmente al depositario delle volontà, cioè al fiduciario della persona, e anche, eventualmente, in caso di contenziosi, la possibilità che ci sia un giudizio terzo su questo eventuale contenzioso. L'altra cosa che mi aspetterei, francamente, l'ho detto in parte prima, è che cioè al medico venga data un po' più di certezza e libertà, ma non per fare quello che lui pensa o solo quello che lui pensa, ma per poter agire d'accordo con il suo paziente, per poter operare le scelte in comune accordo con il suo paziente. Perché la sospensione di una terapia non possa essere interpretata da qualcuno come un'omissione di soccorso. Cioè, voglio dire, è difficile e forse impossibile trovare delle fatti specie di accanimento terapeutico, dire cioè quali sono le caratteristiche standard di un accanimento terapeutico, no? Perché una procedura può essere in un momento una procedura utile, in un altro momento un accanimento terapeutico. Un buon protocollo per un trattamento di un'infezione grave da gran negativi può essere un ottimo strumento in un paziente con una batteriemia post-operatoria può essere accanimento terapeutico in un paziente terminale. Ecco che allora la tecnica in sé non può essere accanimento e non accanimento. Ecco perché non esistono affatti specie. Tutto deve configurarsi all'interno di una relazione di cura rispettosa della dignità della persona, rispettosa della volontà e del consenso del paziente, rispettosa delle evidenze scientifiche, rispettosa delle prospettive verie e della proprietezza del profilo terapeutico messo in atto e quando parliamo di pazienti inquaribili, dimentichiamoci, non dimentichiamoci che sono sempre comunque curabili. Beh, allora bisogna cambiare le prospettive, smetterla di inseguire la malattia, inseguire i bisogni della persona, lenire le sue sofferenze, riempire i suoi vuoti, colmare le sue angosce e cambiare la strategia. Ecco, il medico deve poter far questo. Ecco, dal punto di vista, diciamo così, strettamente del vissuto del medico. La pubblicazione proprio in questo momento del nuovo codice deontologico complica o semplifica lo scenario? Ma il codice deontologico non complica né semplifica lo scenario perché in realtà gli scenari tendono sempre comunque a comprensizzarsi perché è evidente che lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie comporta profili e conflitti etici sempre nuovi da questo punto di vista. Non ultima, per esempio, la scoperta di cellule embrionale nel liquido amniotico. Ovviamente, se confermata e se corrispondente alle attese che ha acceso, di fatto potrebbe sanare una serie di conflitti etici, per esempio, sull'uso delle cellule staminali embrionali. Faccio un esempio. Se sono tutti potenti, sì. Beh, se sono embrionali, voglio dire, sono tutti potenti. Ecco, se è possibile svilupparne queste caratteristiche, sicuramente. Questa testimonianza che forse qualche volta, come dice il senatore Ignazio Marino, la ricerca e il progresso tecnologico molte volte crea i problemi, qualche volta li risolve. Diciamo che il codice deontologico ruota intorno a vecchi grandi principi, che sono quelli della professione, di beneficialità, di cura e di interesse esclusivo del paziente, ma affronta anche i temi nuovi. Ha cambiato poco, molto poco, perché c'era poco da cambiare in questi termini per quanto riguarda l'eutanasia e l'accanimento terapeutico. Non sono altrimenti definibili, se non nel modo con cui sono stati definiti. Sono poi le storie, le singole storie tra medico e paziente che hanno le loro specificità, ma non la norma di carattere generale. In buona sostanza credo sia un codice su questi temi assolutamente, assolutamente all'altezza della situazione. Non so se sia all'altezza della situazione, per esempio l'attuale livello di organizzazione, mi riferisco sempre ai pazienti terminali delle cure palliative, credo che non sia all'altezza della situazione anche il profilo giuridico di queste questioni, ma questo l'abbiamo detto prima. C'è una domanda che i miei colleghi giornalisti avrebbero dovuto farla, secondo lei, in merito sia alla vicenda del codice deontologico che del caso Welby e che non l'è stata fatta e che si aspettava che le facesse e nessuno le ha fatte? No, devo dire che domande me ne hanno fatte tantissime. E troppe forse? No, non è mai troppo su questo. La curiosità è buon segno in questo caso, perché è un segno di interesse. Ecco, mi sarei aspettato forse qualche domanda in più sul tema del governo clinico. Mi spiego. All'interno del codice abbiamo rafforzato alcuni doveri, voi sapete che il codice è un insieme di norme, di indirizzo e di prescrizione di doveri, che indicano al medico alcuni comportamenti, alcuni atteggiamenti. Sicuramente quello dell'obbligo della formazione e dell'aggiornamento, sicuramente quello di operare secondo i dettami dell'evidence based in medicine, cioè della medicina basata sulle prove di efficacia, sulle evidenze delle prove di efficacia. Beh, quello nuovo, ultimo, riguarda l'obbligo da parte dei medici di cooperare all'interno delle aziende e dei luoghi di lavoro a tutte le attività tese a rilevare gli errori. Devo dire che anche le vicende di questi giorni, naturalmente sempre estremizzate un po' dalla comunicazione dei mass media che riguardano le infezioni, eccetera, testimoniano la straordinaria attualità di questo tema, perché è evidente che anche le infezioni rientrano all'interno di una cattiva gestione dei sistemi. Con l'inizio dell'anno nuovo la stampa, il mondo della comunicazione, ha scoperto che siamo dotati in genere di ospedali che sono strutture vecchie, costose perché sono difficili da mantenere in efficienza essendo vecchie, quindi in parte assolutamente proibitive dal punto di vista dei costi di gestione. Ed è solito, si profila la solita tempesta in un bicchiere d'acqua che lascerà probabilmente le cose come prima. Ma diciamo che ormai siamo un po' abituati a una specie anche di sport nazionale. Devo dire che, vabbè, insomma, siamo partiti però dicendo che in fondo le infezioni ospedaliere c'erano perché i medici non si lavavano le mani e gli infermieri non si lavavano le mani. Ora, questo è in parte vero, cioè è noto che una delle modalità di trasmissione dell'infezione ospedaliere sono gli stessi addetti e laddove le procedure di disinfezione delle mani o comunque degli strumenti non sono perfetti, però è noto altresì che soltanto il 30% delle infezioni sono infezioni prevenibili e di questo 30% delle infezioni prevenibili, solo una parte, sono quelle legate a... Ma questo solo per dire che cosa? Di certo, come al solito, nessuno, e mi sembra, voglio dire, senza senso, dover nascondere le responsabilità laddove ci sono. Però il problema vero è che il secondario diventa principale, per cui rispetto a una situazione di pesante fattiscenza delle strutture, e questo è sì, in grado pesantemente di incidere sulla qualità dei servizi e quindi anche sulla sicurezza dei servizi, il tutto poi rischia di ridurre il problema delle mani che non si lavano, che è un problema, ma non è il problema... Il problema. No, voglio dire, il problema vero è che la nostra rete ospedaliera, che è un grandissimo patrimonio pubblico, ricordiamo, abbiamo circa 240.000 posti letto, ci sono circa 1.200 presidi tra pubblici e privati accreditati che operano all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Molte di queste opere, qualcuno ha stimato ufficialmente che circa 236 presidi sono all'interno di... sono strutture a padiglioni, cioè quando l'ospedale era il luogo delle malattie infettive, per cui la struttura a padiglioni era per tenerli isolati. Altri 326 sono nei centri storici, voi immaginate che cosa vuol dire un ospedale in un centro storico. Il 30% sono in muratura, cioè in opere edilizie che precedono la Seconda Guerra Mondiale. Ci fu uno sviluppo dell'edilizia sanitaria, ma per motivi tutt'altro che nobili, tra gli anni 60 e 70. Il 20% delle attuali strutture ospedaliere trovano una data di nascita negli anni 60 e 70, dove registriamo però il maggior tasso di ospedali non finiti. Soltanto il 10% delle strutture pubbliche, delle strutture ospedaliere, è successiva agli anni 70. Quindi abbiamo un patrimonio immobiliare ospedaliero vecchio, vecchio nelle strutture, vecchio nelle ideazioni. Molti dicono che costa molto meno rifarli nuovi che non riammodernarli. Insomma è un problema serio. Poi comprendiamo che il nostro paese ha tanti problemi, comprendiamo che ha un problema di autostrade, di strade, ha un problema di viabilità di treni, di aerei, ha un problema di tecnologie e strutture di base per la produzione e per l'industria. Credo che questo paese abbia anche comunque dei problemi di infrastrutture civili, di scuole, oltre che strade, scuole, ospedali. E forse varrebbe la pena, non dico tanto di volerli risolvere tutti insieme, ma comunque affrontare con più sobrietà e meno caccia alle streghe questi problemi, che sono problemi seri, che sono problemi veri, che richiedono delle scelte e delle soluzioni che non si realizzeranno nei prossimi due, tre, quattro anni, ma richiedono una visione che guarda lontano e soprattutto un atteggiamento, voglio dire, più incisivo e meno scandalistico. Più collaborativo. E anche più collaborativo. Io sono convinto che il tasso di civiltà di un paese, di modernità di un paese, non lo si misura soltanto dal suo prodotto interno all'olto, lo si misura sulle sue scuole, sulle sue strade, sui suoi ospedali e sul modo in cui tutela i diritti dei cittadini. Questo è un paese moderno, questo è un paese civile. Poi sicuramente conta anche il reddito medio pro capi, conta anche la quota import-export, per carità di Dio. Queste creano le risorse per poter costruire poi sul suo diritto. Però cominciamo anche a ragionare in questi termini. Grazie a tutti.